E' stato numero 68 della classifica mondiale ma ora pur essendosi ritirato all'attività internazionale continua a ritornare a Gioia Tauro per giocare quello che può essere considerato il torneo più importante in Calabria. E' stato ancora una volta Alessio Di Mauro a vincere il torneo Open della Cittadina del Regino. In finale Di Mauro ha superato il campano Enrico Fioravante con il punteggio di 6-2-6-4. A condizionare la finale è stato anche un piccolo infortunio che ha creato non pochi problemi a Fioravante ma il tenista siciliano è apparso in grande forma e si è giudicato il torneo per la terza volta in carriera. Diciamo che è un periodo che sto giocando abbastanza bene. Un po' ho approfittato, mi dispiace per lui, ho approfittato del suo infortunio soprattutto nei due game del primo set quando l'ho breccato. Forse la differenza nel primo set l'ha fatta proprio il suo infortunio. Poi il secondo set è stato un set molto equilibrato, ho giocato da tutte e due abbastanza bene. Sono stato bravo ora nell'ultimo game ad approfittare di qualche occasione che ho avuto, che mi ha dato lui e ho portato a casa questa vittoria all'ennesimo successo qui. Sono molto contento.